Blogosfere è alla conferenza stampa di presentazione di SMAO 2008 e abbiamo il piacere di incontrare Pierantonio Macolo, amministratore delegato di SMAO. Ciao Pierantonio e bentornato su Blogosfere. Ciao, buongiorno a tutti e è un piacere rivedervi. Pierantonio, quali sono le novità principali che ci attendono a SMAO 2008? Ma diciamo intanto una novità di metodo, per cui sul sito smau.it ogni utente confeziona il suo percorso ad hoc in funzione delle sue esigenze. E poi direi contenuti essenzialmente, perché quest'anno abbiamo un rapporto tra contenuti indipendenti e casi pratici di aziende di 3 a 1 e quindi articoliamo un'offerta che va dai direttori marketing, vendite e alla direttore di finanza, responsabile di risorse umane, fino al nostro tradizionale responsibility e poi un'offerta per tutti i tecnici che passa dalla sicurezza informatica al web 2.0. Direi che probabilmente è l'offerta di contenuti indipendenti più grandi in Europa e questo è un vanto perché comunque l'Italia ha bisogno di conoscenza. Cioè per competere le imprese devono prima capire come le tecnologie possono aiutare il business e questo è un po' il nostro obiettivo. Come reputi il livello dell'Italia nell'ITC? Allora l'Italia è secondo me un paese eccellente perché in realtà abbiamo un problema di dimensioni aziendali piccole e qui non abbiamo risorse, funzioni aziendali preposte solo alle tecnologie, però abbiamo anche grandi intuizioni. Quindi io dico se riusciamo a fare un appuntamento in cui raccontiamo praticamente delle opportunità, un unico appuntamento all'anno di 4 giorni, io sono convinto che l'Italia potrà darci grandi soddisfazioni. Grazie per Antonio e ci vediamo a SMAO 2008. Vi aspetto a tutti, arrivederci.